Faccio vedere tutto l'ospedale. Abbiamo delle attrezzature modernissime. Ma perché stanno a letto nei corridoia? Beh, è una nuova terapia che stiamo sperimentando in questi giorni. Nei corridoi i malati guariscono più rapidamente. Infatti, prima o poi, tutti se ne vanno. Al cimitero! Eh, prego, prego, da questa parte. Venga, venga. Guardi, è proprio una struttura esemplare. Come mai sono in due? Vabbè, hanno la stessa malattia. Si curano meglio. Venga da questa parte. Bravo, bravo il nostro giovanotto. Faccio strada, venga. Venga da questa parte. Entri, prego. Ma che gli fanno? Perché non si fa l'entrata. Perché chiudere? Cosa succede? Lo stiamo analizzando. Per ora è un marziano provvisorio. Ma insomma, cosa gli fanno? Mi dica. Non commento. Incredibile, sembra un flipper. Il flipper venuto dallo spazio. Ve l'avevo dito che sono un po' diverso da voi. Ma non avete volito credermi? Apre la finestra. Scenda pure. Spero solo di non ammalarmi mai in questo paese. Anch'io. Spero di non relaxingio. Spero. Spero di non passate.